I bambini sempre più protagonisti del carnevale anche con una mostra che riserverà anche qualche sorpresa. Certo, quest'anno proprio si è deciso in ottica di continuare sempre questo discorso con i bambini, dedicare proprio a loro una mostra, sia storica, che dedichiamo quindi alla figura della Bà presente da tempo nel carnevale, da tempo in memore, sicuramente una delle figure base e chiave del nostro carnevale, sino ad arrivare all'esposizione nei giorni della mostra di tutto il lavoro fatto nell'anno scolastico passato con delle scuole elementari di Vrei e Circondario. Questo perché ci ha reso possibile attraverso queste cinque unità didattiche che sono state dedicate ai personaggi, alla musica del carnevale, ai luoghi e ai simboli, ci ha consentito di trarre un risultato importante, quello nel quale vedere che cosa i bambini vedono nel carnevale, che questo è una cosa molto importante e per tutti noi una cartina di tornasolo importante perché indirizza anzitutto la nostra azione nei loro confronti e ci restituisce un'immagine che noi magari non possediamo. Ecco perché questo discorso di fantastico carnevale che è il titolo della mostra, perché i bambini riescono a vedere nel carnevale spesso dei simbolismi che noi non cogliamo più, così come nello stesso tempo a loro sono assolutamente trasparenti alcune figure o da alcune situazioni del carnevale che a noi pare impossibile lo siano. Quindi è interessante, io invito tutti ad andare a vedere la mostra proprio perché si potranno trarre informazioni utili in questo senso, perché a noi sembra che magari l'immaginario dei bambini possa essere colpito da certe figure, invece scopriremo che certe figure e certe immagini, certe ritualità del carnevale per i bambini sono assolutamente trasparenti e questo è importante capirlo perché ci dà anche l'indicazione di come lavorare domani con loro.